qui vi parla Piero Gipardo, vi do il benvenuto per questa sfida con me c'è Stefano Nava ciao Stefano ciao Piero, un saluto a tutti gli amici all'ascolto è tutto pronto per le emozioni della sfida tra Mainz e Friburgo vediamo come scendono in campo i padroni di casa affrontano l'incontro col 4-5-1 di tipo nettamente offensivo per mettere pressione agli avversari tutto pronto, si parte c'è il triangolo allontanano il pericolo Pallaghece, sarà palo laterale Busman Cordoba Clemens Donati Tra osso pericolo c'è la parata sicura del portiere che blocca il pallone l'appoggio di testa al compagno ottimo, occhio al tiro palla che sorvola la traversa altissima recupera il pallone con un intervento facile Busman e l'arbitro deve già interrompere il gioco ma un Gartling trova il compagno buona retura difensiva che interrompe l'azione in un momento interessante a un'autostrada a disposizione parte il tiro ma la spazzata via Petersen ha intercettato bene il passaggio non si voleva molto Clement Cordoba Donati calcio di punizione concesso dal direttore di gara per il tocco con la mano ha colpita nettamente con la mano l'arbitro non poteva far tinta di niente interrompe l'azione con un intervento tempestivo Clemens Petersen Attenzione! Un'occasione che potevano sfruttare meglio che gli avrebbe dato il vantaggio E lì nel momento che conta servono lucidità e freddezza Grazie a tutti Mali Occhio cerca l'area di rigore Cordoba cerca a porta pochi centimetri più in basso e sarebbe entrato in porta Torrecon ha recuperato il pallone senza difficoltà Difensore capisce tutto sulla verticalizzazione Prova ad andare Palla che termina lontanissima dalla porta difesa dal portiere Buschman Bell Va un Gaslinger Passaggio che non era certo tra i più precisi questo ha cevolato il suo intervento Prova e non trova il gol Strano Strano Solito è inflaccabile Torrecon Torrecon Non ci sono dubbi qui c'è anche un altro cartellino Grande sicurezza la parte del portiere e ti casca la sua presa Occhio al cross Crossa Sicuro l'intervento del portiere Palla riconquistata con un'ottima chiusura Non si fa sorprendere Fuori gioco che c'era come ci mostrano le immagini neanche se di poco Ottima la chiamata dell'assistente qui ha interrotto comunque un'azione che non mi sembrava particolarmente pericolosa Ma lì interrompono bene l'azione e si chiude qui il primo Grazie a tutti Grazie a tutti Era stato già munito Sembrava piuttosto nervoso Forse in questo momento uscire dal campo è la cosa migliore Sì Il suo comportamento lasciava intendere qualcosa di pericoloso Dunato Guadagni a metri verso l'area C'è un'ottima rete di passaggio Ma un Gartlinger Crosse in mezzo Ci aspetta il calcio d'angolo Si salva di pugno Busman Cairo Non ha giocato mai Arriva il tizio dell'arbitro Sarà punizione Crosse in mezzo Riffinge il pallone di pugno Malogun Busman Cairo Palla buttata via Pettersen Malogun Clemens Ha sbagliato il cross favorendo l'intervento dei difensori Spezzato bene qui il gioco avversario hanno recuperato palla nella zona mediana nel campo Se lo lascia sfuggire Perso il duello di fisico e di attenzione Busman Ottimo il tiki-taka qui Tutto è pronto per la rimessa da parte del portiere Clement Un'altra buona giocata Busman Torrecon C'è la prateria per andare Gran tiro una parata incredibile Palla fuori Sarà rimesso dal punto Va un Gartling Clemens C'è il movimento C'è il movimento dei compagni Il portiere dice di no Si ripartirà dal rinvio del portiere dal fondo Bell Busman Va un Gartling Busman Attenzione La allontana di pugno E sarà a calcio di punizione Cinque al termine Parità assoluta Grande recupero ha letto benissimo la situazione complicatissima Percetta palla e sventa il pericolo Ma un Gartling Cairo Portiere che blocca senza problema Musman Cairo Vigie Contratta recupera il pallone C'è spazio davanti a sé Occhio al tiro Grande parata grande riflesso super qui il portiere Attenzione a questo corner che può essere il momento chiave della gara Palla che viene rilanciata in avanti pareggio dunque